Eccoci ad un nuovo appuntamento. Dopo il video sulla dipendenza affettiva e le sue caratteristiche ho ricevuto diversi messaggi che mi chiedevano di approfondire l'argomento. Oggi voglio spiegarti come si manifesta la dipendenza affettiva. Ciao, io sono Angelo e oggi torno a parlarti di dipendenza affettiva. È un argomento molto complesso e ampio e cercherò di darti alcune indicazioni chiare e sintetiche su come riconoscere gli atteggiamenti di dipendenza. Ma prima di addentrarci nel vivo di questo video ti rubo qualche secondo per presentarmi. Sono uno psicologo che ama fare divulgazione psicologica. In questo canale ti parlo di psicologia, autostima, crescita personale, relazioni interpersonali. Se ti interessano questi argomenti mi raccomando iscriviti al canale e non dimenticare di cliccare sulla campanellina delle notifiche così non perderai nessun video. Se poi vuoi aiutarmi a fare divulgazione psicologica metti subito un like al video e condividilo con le persone che ritieni interessate. Oggi, come ti ho detto in presentazione, torno a parlarti di dipendenza affettiva ed in particolar modo cercherò di spiegarti come si manifesta questo atteggiamento mentale. Come puoi ben capire, le relazioni che si basano su una dipendenza possono diventare molto tossiche e deleterie per la salute psicologica delle persone coinvolte. Prima di spiegarti in dettaglio come si manifesta la dipendenza affettiva è bene fare un cappello generale su che cos'è la dipendenza emotiva e quali sono gli schemi di pensiero alla base. Se hai perso i video nei quali ti spiego la dipendenza affettiva e le sue caratteristiche, te li lascio giù in descrizione. La persona emotivamente dipendente crede di aver bisogno di una relazione. L'idea alla base della dipendenza è che senza una relazione la persona non vale niente, oppure è incapace, oppure non avere una relazione significa essere delle brutte persone. La dipendenza affettiva è la conseguenza di una forte autosvalutazione del proprio valore, delle proprie capacità. La persona emotivamente dipendente crede di valere, di essere capace, di essere in grado di affrontare la vita solamente con una persona al suo fianco. Queste convinzioni creano la dipendenza. Ma ti ripeto questa era una piccola sintesi. Se vuoi approfondire in descrizione ti lascio dei link utili. Ora entriamo nel vivo di questo video e cerchiamo di capire come si manifesta praticamente la dipendenza affettiva. La prima manifestazione, quella più scontata, quella più evidente, è la sofferenza emotiva. La persona emotivamente dipendente prova molta ansia, molta angoscia quando percepisce l'allontanamento dell'oggetto del suo amore. Voglio sottolineare la parola percepisce perché molto spesso la persona dipendente non riesce ad analizzare oggettivamente la realtà ma si ferma la sua percezione. Purtroppo a causa della sua dipendenza percepisce situazioni abbandoniche anche quando non sono reali. La mente della persona dipendente è continuamente punzecchiata da pensieri abbandonici dall'idea che da un momento all'altro la relazione possa finire. Come puoi immaginare scatta nell'individuo un continuo stato di allerta. Porta la persona a vivere intense sensazioni di ansia e di angoscia. La seconda manifestazione più eclatante è la ricerca continua di rassicurazioni. Proprio perché la mente della persona dipendente è punzecchiata dai pensieri abbandonici, questa va alla ricerca di rassicurazioni, chiede all'oggetto del suo amore, al partner o alla persona cara, continue conferme della relazione e dell'affetto. La ricerca di rassicurazioni può diventare così ossessiva da incrinare la relazione. E' un po' quello che è successo a Gloria che ha deciso di affrontare finalmente la sua dipendenza emotiva. In terapia abbiamo cercato di analizzare quali suoi comportamenti erano frutto di questa sua paura abbandonica. Lei ha evidenziato e ha riconosciuto che andava continuamente alla ricerca di rassicurazioni, chiedeva continuamente al suo partner se la amava, se sarebbero rimasti sempre insieme, se era felice con lei. Queste sue richieste ossessive purtroppo hanno incrinato la relazione. Il compagno a un certo punto ha deciso di prendere le distanze per chi sentiva oppresso dalle richieste ossessive della compagna. La persona dipendente trova nella rassicurazione un beneficio immediato. La rassicurazione placa velocemente l'ansia abbandonica. Purtroppo però la rassicurazione tende a cronicizzare il problema perché la persona dipendente pensa, crede di poter placare l'ansia solo attraverso la rassicurazione. Purtroppo la ricerca continua di conferme può incrinare la relazione, come ti ho appena spiegato, e può portare il partner ad allontanarsi. Un altro atteggiamento caratteristico delle persone emotivamente dipendenti è l'atteggiamento passivo. Con questo termine si intende la tendenza delle persone a sminuire i propri diritti, i propri desideri, le proprie volontà per esaltare, tenere in eccessiva considerazione i desideri, le volontà e i bisogni altrui. La persona emotivamente dipendente tende ad essere particolarmente accondiscendente nei confronti della persona amata. Questo avviene perché alla base vi è l'idea, se io contento ogni tua richiesta, tu non mi lascerai. Questo atteggiamento però può portare la persona dipendente a sentirsi continuamente sminuita. Può portare la persona con un atteggiamento passivo a non riconoscere più i propri desideri, le proprie volontà, i propri bisogni e le proprie necessità. La persona è totalmente proiettata nei confronti della persona oggetto del suo amore a tal punto da dimenticare se stessa. Quando Lorenzo mi ha chiesto aiuto ha esordito dicendomi non mi riconosco più. Abbiamo cercato insieme di indagare che cosa intendesse con queste parole e lui mi ha detto che negli ultimi mesi non riconosceva più i suoi desideri, le sue volontà, ciò di cui aveva bisogno. Anzi, per essere accondiscendente nei confronti della sua compagna aveva smesso di frequentare alcuni amici e aveva rinunciato agli odi. L'atteggiamento passivo di Lorenzo era diventato così preponderante nella sua vita al punto tale da portarlo a rinunciare agli amici e agli odi. Questo purtroppo accade molto spesso alle persone che soffrono di dipendenza affettiva. Un'altra manifestazione della dipendenza emotiva è quella di sentirsi capaci solo quando si è con il partner. Come ti ho detto all'inizio molto spesso alla base della dipendenza emotiva vi è l'idea di essere incapaci di non valere e di essere capaci di poter affrontare le situazioni solo con l'appoggio di una persona. La persona dipendente emotivamente pensa di non riuscire ad affrontare situazioni, di non avere le risorse per non con una persona al suo fianco. Quando Franco mi aveva chiesto aiuto aveva appena firmato il suo divorzio. Da allora una profonda ansia lo aveva coinvolto. Riflettendo sulla sua ansia e su cosa ci fosse dietro lui mi ha detto che si sentiva incapace. Durante il matrimonio l'idea di avere la sua come partner a fianco lo rendeva più sicuro di sé e delle sue capacità. Ora che aveva firmato il divorzio si sentiva in balia degli eventi della vita e si sentiva totalmente impotente e incapace. Questo atteggiamento è spesso presente nelle persone emotivamente dipendenti ed è il motivo per cui si legano in maniera ossessiva ai propri partner. Un'altra manifestazione della dipendenza emotiva è la difficoltà decisionale. Questo aspetto è strettamente legato al punto precedente. La persona dipendente emotivamente tende a delegare la totale responsabilità della relazione all'altra persona. L'altra persona si sente investita di poteri decisionali eccessivi. Questa tendenza a delegare il potere decisionale può portare la persona dipendente a non allenare il muscolo delle decisioni. Quando deve prendere una decisione la persona emotivamente dipendente va alla ricerca del sostegno e dell'approvazione della persona oggetto del suo amore. Pensando di non essere in grado di prendere la decisione giusta si affida totalmente alla persona amata. Questo con il tempo non fa altro che cronicizzare la propria sensazione di incapacità, la propria idea di non essere in grado di prendere la decisione giusta. E' un po' quello che è successo a Gianluca che nonostante si fosse separato chiedeva consiglio alla ex moglie per ogni decisione da prendere. Pensando di non essere in grado di affrontare le situazioni e pensando di non essere in grado di prendere la decisione giusta chiedeva continuamente consigli alla sua ex moglie. Nonostante si fossero separati lui tendeva a delegare il potere decisionale all'altra persona. Questo con il tempo l'ha portata a vivere una situazione di stallo e un continuo amplificarsi dell'idea di essere incapace. Un'altra manifestazione molto evidente è la ricerca di nuove relazioni. La persona emotivamente dipendente spesso salta da una relazione all'altra. L'idea di non valere senza un partner porta la persona a iniziare una relazione appena se ne chiude un'altra. In alcuni casi mi è capitato di ascoltare persone che avevano iniziato una nuova relazione ancora prima di concludere quella precedente. Come puoi immaginare questa fame di relazione può portare la persona a cadere in relazioni tossiche e per nulla salutari. Quando io e Francesca abbiamo ripercorso insieme la sua storia relazionale la ragazza ha preso consapevolezza che non era mai riuscita a stare per un certo periodo da sola. Appena concludeva una relazione ne iniziava subito un'altra. Abbiamo cercato di indagare meglio su questo suo atteggiamento che cosa la spingesse a comportarsi così e la ragazza mi ha detto che non riusciva a pensarsi da sola, che il fatto di essere single la faceva sentire inutile e non amabile. Questa è la classica situazione di dipendenza emotiva. L'ultima manifestazione ma sicuramente non meno importante è la ricerca di partner forti, di partner dominanti. Capita molto spesso che la persona emotivamente dipendente vada alla ricerca di partner dominanti perché queste persone danno il senso di stabilità, l'idea di una presenza costante. La persona emotivamente dipendente ritrova in queste persone la soddisfazione del loro bisogno di un ancoraggio. Il bisogno di avere un punto di riferimento costante può portare la persona dipendente ad accontentarsi di relazioni non salutare. La paura di non avere una relazione, la sofferenza nel non avere una relazione è superiore alla sofferenza che si prova in una relazione tossica. E' questo il motivo per cui molte persone emotivamente dipendenti non riescono a separarsi. La sofferenza provocata dalla mancanza di una relazione è molto superiore alla sofferenza che si prova in una relazione tossica. Questo spiega perché molte persone emotivamente dipendenti hanno difficoltà a separarsi. L'idea di rimanere da soli crea così tanta sofferenza da rimanere ancorati ad una relazione tossica. Spero che questo video ti abbia aiutato a comprendere quali sono le manifestazioni più frequenti della dipendenza emotiva. Se hai domande su questo tema tranquillamente puoi scrivermi nei commenti. Ti ricordo poi che puoi seguirmi anche su Instagram e su Facebook e poi ti consiglio di vedere questo video sull'atteggiamento tappetino, sull'atteggiamento da evitare nelle relazioni. Qui invece puoi iscriverti al mio canale e noi ci vediamo al prossimo appuntamento.